Eccolo! Eccolo! Ok, siamo in tre che devono cercare Quindi, aspetta Gameraboy, che sborpli Tu chi sei? Ok, Rick Eric è... pazzo C'è quello del corollante viola? Ok, sono dieci secondi che inizia Oddio Ma tu ti devi nascondere quindi? Scusa, ma che ci fai qui? Entri, entri, entri Prego, entri, entri Sono bloccato Non è un muro dall'altra parte Facciamo finta che non esisti per ora Ok Ma siete sicuri che... No, no, sono uno di voi Sicuro? Mi sa di no Mi sa di no Allora Cappello Adesso sono uno di voi veramente Dovevo trovare dove sono e che possono essere qualunque cosa Pure del sale Quante persone si stanno nascondendo oltre a me? Due Oh, ma bellissimo Freddi c'è gli occhiali qua Come? No No Calvo, scusa, pazzo Non volevo Lo so che ti fa impazzire la canzoncina di Freddi, pazzo Quindi ragazzi, ma chi è che si sta nascondendo? Scusate, ma Non sentite proprio il rumore tipo di un radar Ma è proprio una pinza Un radar? Sì Anch'io Penso che li deve prendere quello che si nasconde Esatto Oh Oh, chi è quello? Ma scusa Scusami Ma lo sai ti puoi trasformare in un oggetto? Sì, ma c'è un piccolo problema Balla per noi Ho preso in mano Balla Cosa sta succedendo ragazzi? Comunque mi dica Stava Stavo Stavo praticamente Stavo Stavo Eh? Sbaglio o sta scappando? Sta scappando Partaci dal tuo amico Scusi? Ok, cerchiamo l'altro Bene Allaghi Dov'è Domi? Domi Devo trovarlo No, puoi passare Aspetta che stai bene, sta vicino a qualcuno Alle marini allontanati Mi sono fatto malissimo Alle marini allontanati? No! No! Avevo vinto? Vabbè, alle salve Non c'è cosa capire Vabbè, io raga, ciao C'è un problema Io do li nascondimi perché sono di cima a voi Ok Salve Andiamo Chissà dov'è Chissà Dove siete? Bruh No Ma penso che c'era Oh mio Dio, è bellissimo Cosa? Questo Lui Non vedo io purtroppo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Non mi interessa più, sai Così a caso mi do voglia che non mi interessa più Sicuro ti posso dare una fetta di pizza No, grazie a posto, sto a posto Ma i veriti sono delle fette di pizza che volano Sono tantissime cose che potrebbero essere persone nascoste Non ho termine via Oh no Oh no No Vieni qua Vieni qua Vieni qua Un freddy Violla che continuava a saltare L'ho visto morire Grazie mi hai detto dove sei lui? arrivo arrivo usare poi le gradate usare credete ballerine non troveremo mi sono salvato ok ragazzi sono qui ma scusa ragazzi sono in cazzone francesco venito con me facciale 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 via vai via domi ragazze te acqua acqua qui suoni sento qui non so cosa fa questo cioè quale non c'è qui da qualche parte la bottiglia forse nessuno qua dai cimila un indizio che colore 6 a io sono italiano è un colore di una pizza ma hanno trovato ma hanno trovato che ecco la cosa più bella non so dove sia ho visto che era ragazzi io l'arco esplosivo prova a farlo scoppiare ogni volta wait 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 sarò stupido ma siete da mezz'ora sono qua sono nello stanzone principale io sono rosso e piace molto alle persone che mangiano le patate non è vero dico le cose che sono pazzo e dai ragazzi vi sto fischiettando sta fischiando stati schiando da qualche parte e qui non mi parte per forza no no ti troveremo per forza non è no no io continuo a sentire suoni di qua ma non ci credo no dove era? era sotto un cavallo qui infame oh abbiamo le gallerine possiamo trovare ale oh è vero era una bottiglina caduta vediamo devo usarle bene si si spamma le tante abbiamo 30 secondi veloci spammate le granate via 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 trovatelo spara tutto tutto devo trovarlo ma mi sace la bella re ma dov'è? siiii dov'eri? cosa? sono le trascende cosa sono le trascende? c'è un problema io pure io dovrei nascondermi io dovrei nascondermi io dovrei nascondermi scusate anch'io vai allora noi ci giriamo qua dai esatto girate non barate che bello il paesaggio Ale ah per questo ci hanno dato questi invisibili che cosa diciamo? adesso ci siamo qui solo io e te di fronte a questo tramonto posso dirti una cosa? che bello ma chi fai? Ale nascondermi 10 8 3 0 4 andiamo e apriti sesamo matematica secondale al pazzo sento le cose sono nonofi implacabile non sono pazzo lo giuro cioè c'è freddi c'è mini freddi violi una galle trichet . tanto qualcuno che fischia per noi è giusto il banno mi banno ma stanno pure i bagni nuova perché è figata a vari vivi sono sono andato nei tubature adesso sono sono nelle mure ma perché domi non parla da tanto tempo e infatti mi stavo per chiedere stavo letteralmente per dirlo non esistono domi stata regalda dubito non ci sono pupita non ci sono mi raccomando lasciate stare i tunnel ok io aiuto ragazzi se volete vi dico dove ricco ma perché ci sono dei tunnel giuro di solito ventare non è bene non mi fido di te scusate sono l'impostore sono andato ciao i venti dai venti tanti di un posto ma poi con questa scusa puoi stare da un quello dai ma io non trova la zona del vento c'è entrato in uno però no 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 sembra di aver sparato tutto qualsiasi cosa allora non sarà allora è vicino sull'eric raga mi son chiuso in una ramadietta aiuta Ciao ragazzi Sparo, sparo, sparo Fermo, fermo, fermo Piglialo, piglialo, piglialo Già mi ha fatto un po' di danno, dai Devo trovarlo Sì, dai Sei un infame Questa è la mia vendetta per io che Boh, io Dai, dai Perché vuol tryhardare di più? Abbiamo fatto la speedrun Eravamo un team Eravamo un team Proprio non avevo fatto niente io Deve trovare Snowdry Vai, vai, vai È sul palco Ho contrato per tutto L'unico posto del palco mamma mia mia possibile tra la faccia io sto proprio cil tu 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 aia ma infami non sono stati e sottori su tre yardo io adesso tre yardo io non ci sarei più dei miei video 15 99 0 arrivamo non vale ale già sta qua aspetta posso andare a vedere aspetta non voglio andare a vedere la zona aspetta 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 voglio vedere la zona aspetta sai dove ero nascosto ero nascosto qui dietro posso vedere la zona aspetta un ketchup che dove il ketchup più piccolo aspetta with fermo di ketchup guardateci che gli altri e mentre mamma mia sei piccolissimo ma non possiamo trovare il sale posso passare il sale aspetta ti aiuto ok non fai più video basta possibile non posso fare un nascondino gatto 3 ca e non penso si conta così ma nudo baba boy ricorda 1 dove sei dove sei non ti vedo quel punto ma ci siamo messi tutti sul palco ciao domini ragazzo non lasciate un buono spot lasciato avete un giocatore in meno mi spiace per qualcuno quasi ancora ma se non c'è non sono faccio io lo giuro come se qua o è l'altro dato io sento qualcuno correre anch'io ma questo verità o cento maiale e ale che sta facendo ragazzi sono passato davanti a tutti e tre correndo nessuno mi ha visto quanto arrivi con allora no mi sono anche trasformato in devo respirare un calmo ok portaci da domi portati da domi come sono piccoli no 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 sono mio però io non lo calco cosa non ho perso il palco ed è di hanno chiuso non capisco niente dimmi che tu sei che avete mi dò un indizio ultima nessuno mi troverà mai mi avete già trovato una volta in questa partita sono riuscito a scappare aspetta io devo cercare dove cercano l'ha ripetito è rientrato qua dentro perché chiusa l'ho riuscito nella stessa partita a far venire trovato e fuggire come vi dirò se riesco a sopravvivere vi dirò come ho fatto ha perso di nuovo no a braccia che ha fatto quello domi stupido poi domi ma è che cosa ti sei trasformato mi sentono veramente sconvolgente hold on non penso che sia sconvolgente penso che sia molto ovvio però noi siamo stupidi almeno io sono stupido io sono molto stupido abbiamo perso che due volte per questo vi ripeto avete trovato anche me non capisco dov'è io sto per esplodere cosa giovane c'è una moneta perché mi ha trasformato la moneta facile era una sedia cosa era all'inizio a a